Buongiorno a tutti, innanzitutto e buon anno. In questi due ultimi giorni non ho potuto fare a meno di notare svariati video che sono stati postati in merito ai botti di Capodanno e quello che ho potuto notare è che più che essere un insegnamento su come aiutare i nostri amici animali a non soffrire, a non essere traumatizzati da questi eventi sembrava più una denuncia sociale che va anche bene ma non vi siete presi cura realmente del vostro pet, del vostro animale. Dunque trattasi di psicologia spicciola. In natura un animale se sente una situazione di pericolo la cosa che fa è rintanarsi in un posto più sicuro possibile e restarci finché tutto non sia finito. Quindi cosa voglio dire con questo? Che ho visto svariati post di animali completamente tremanti con il proprietario, la proprietaria che li consolavano o li accarezzavano. Dunque non si premia mai una situazione, un comportamento ansioso ma neanche di un bambino o di una persona tanto più di un animale con una carezza. Quindi le due cose da evitare assolutamente da fare in questi casi è sgridare l'animale o consolarlo. Il modo migliore che potete avere per aiutare il vostro animale è continuare a fare la vita normale che stavate facendo. Se il countdown vi dà comunque una specie di adrenalina la cosa migliore che voi possiate fare è distogliere la vostra attenzione da quello che state facendo e attirare il vostro animale distraendolo. Ad esempio che ne so cominciando a giocare con lui o con lei, con il gatto, con il cane. Ad esempio mandorla con me non ha avuto nessun problema perché ho fatto come se nulla fosse. Lei non ha motivo per essere traumatizzata dai botti, è stata tranquillamente al cenone con tutti noi quando sentiva i botti nulla di che. La gatta probabilmente che ha una gatta randagia aveva più paura e si è terrorizzata ed è finita sotto il letto. Quando io mi sono accorta di questa situazione non è un problema, non sto con i miei amici, non sto con il mio compagno, non sto con le persone. Vado e distrago il gatto. Quindi cosa ho fatto? Ho preso il suo giochino preferito, ho cominciato a giocare sotto il letto con lei e questo ha fatto sì che dopo poco lei si rilassasse ed è riuscita a stare tranquilla nonostante i botti. Questo è proprio la distrazione, il metodo della distrazione oppure attirare l'attenzione dell'animale verso di voi. Se voi mettete o consolate un comportamento ansiogeno o sbagliato lo state cristallizzando, lo state formando, gli state dicendo fai bene ad essere preoccupato perché la vostra mano che si allunga verso questa questa mano non sta facendo altro che trasferire la vostra ansia sul vostro animale. Badate bene che tutto quello che fate si trasferisce sull'animale. Più tranquilli siete voi, più l'animale si può fidare di voi. In questo caso l'animale se voi lo consolate capisce che di voi non si può fidare. Spero di essere stata chiara, non sono un'istruttrice cinofila, sono solo una che ama gli animali. Non sono neanche una psicologa, sono solo una che studia come migliorare la propria vita e quella degli altri, cioè bambini, anziani e animali. Vi auguro a tutti buon anno e spero che la prossima volta oltre denunce sociali di abbattere questo muro del suono con i botti di capodanno sappiate gestire le ansie dei vostri animali senza trasferire le vostre proprio su di essi. Ciao a tutti!